Diamo inizio Iniziamo come sempre ragazzi con un assaggio, ok? E adesso voglio la vostra voce Com'è ragazze? Com'è Nassù? Adesso arriva il bello, eh? Finalmente si spinge, signorine Si prende velocità, si vola Siete pronti a fare il suo in serio? Ragazze, adesso siete voi le protagoniste Voglio il volume alle stelle, signorine Voglio sentire l'urro! E' sempre bello vedervi sorridere La voce Come andiamo a bordo ragazzi? Tutto ok? Giovanotto Con il giubbotto rosso Tutto ok? Bene, bene Adesso vi riprendete un attimo E poi proseguiamo Con il gran finale al massimo Al massimo La grande botta All'urro libero 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 Uuuuh 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 E con questo ragazzi Siamo all'arrivo Nuova 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 Nel frattempo Gettonatevi per la prossima Siamo di nuovo in partenza Andiamo 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 Si Andiamo Iniziamo per la tela, ragazzi, che non riscaldamente, ok? Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi. Noi, 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 noi.